A presto 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 cosa 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 è la nostra forza la forza che i gosti la forza la forza la forza che探bo come cosa stai pensando la cosa è la forza per il nostro corso. cosa mi ha? Cucco è tu me pari che tu mi potesse vedere che in un'escrizione che tu hai avuto il mondo che tu hai avuto il mondo il suo paziente e il suo paziente non è tutto in un'escrizione che tu hai avuto il mondo che tu hai avuto il mondo che tu hai avuto il mondo che tu hai avuto sukkha dìa è rischitato c'è qualcosa di rischitato nella tua vita non c'è questo che tu non c'è tutto che tu non c'è tutto c'è tutto c'è tutto c'è tutto c'è tutto buddhiyog mettete a me sara sanzare mettete a buddhiyog mettete ducchi mi lì ascianti mi lì Bapà diceva, basta. che ho non pregatto di padre? la cosa è che è arrivato che resta con l'amrita vuoi nel 31o non si portati a far tempo guardatei guardatei come si guardatei il tuo donore la relazione che sua pensa guardatei come si sembra? grazie a voi che si è diventato in cui si è diventato il suo diventato il suo diventato diventato ma il diventato bisogna fare prima in cui si è diventato anche anche il diventato anche il diventato il Papa dice ora ti ricordo di ricordo è diventato la sua diventazione Pura Hua Deha Abhiman Bap se buddhi lega Kabbè Kisì Din Tum Shantì Mè Bapki Yad Mè Bètho Dekhte Cya Hota È Jò Tum Néhi Kertè Thè Bari Bate Us Din Agar Néhi Kertè Tum Dekhte Kya Hota È Kón Sa Vinash Ho Hota È Jisè Bap Nè Kal Cahà Khi Sadguruaar Ku Maun Mè Bètho Bapki Yad Mè Baba Tu Kaehegà Roz Bètho Roz Shantì Mè Maun Mè Bètho Baba Kì Yad Mè Bapko Jho Sewa Karni Karni Ho Ghi Uski Charcha Bap Karegà Tumhari Buddhi Mè Woh Lāyega Bap Tumhè Bataayega Tum Bas Bapki Yad Mè Rahu Tum Sewa Ke Bari Mè Bhi Nèhi Söcou Bhatak Jau Ghe Baba Nè Pehlè Sè Kaha Hai Virese Ho Us Mè Nèhi Jau Bhat O'Ki Buddhi Usi Sè Bhatki Hai Jinniki Buddhi Bapke Paas O'Kabhi Bhatak Néhi Sakta Sewa Aya Bhatka Sakti Chance Zyadha Hai Aur Sewa Karne Ke Liyue Yad Ka Balance Karna Padta Hai Agar Tumh 8 Ghanta Yad Karte Ho 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 4 Ghanta 2 Ghanta Sewa Karte Ho Dhyan Rakhna Sewa Koji Maamuli Chiz Néhi Hai Yagya Mai Aaj Tak Isi Baad Se Bhatke Hai Yogi Se Koji Bhatak Néhi Sakta Yogi Se To Oupar Chadhenge Or Oupar Chadhayange Bhi Sumajh Ki Bata Hai Bacchou Ke Liyue To Baba Kethe Buddhi Yogi Ek Baap Se Lagao Check Kuro Tumhari Buddhi Me Kya Hai Kisiki Buddhi Me Hota Hai Voh Ghar Gari Vastu Padartha Dekhi To Bhi Baap Yad Aayega Kisiki Rishthe Ko Yad Karay To Bhi Baap Yad Aayega Baki Jine Sansar Yad Ata Hai Sab Ashuddha Buddhiya Hai Bhrashtha Buddhiya Hai Kisiki Ko Sabzi Me Bhi Baap Dikhega Chawal Me Bhi Baap Dikhega Daal Me, Roti Me Bhi Baap Dikhega Ittani Baap Dikhega Bhi Baap Dikhega Tumh Bhi Baap Dikhega 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 Parmaiya Kashap Chik Kare Baapko Yad Karo Vikarmo Ka Bhojha Utaaro Jab Tak Buddhi Vatak Rahi Hai Bana Paapo Ka Bhojha Hai Dhyan Me Rakhna Isilè Baapki Yad Me Buddhi Ko Stir Karo Seva Chhod Kariya Chhod Tum Yad Ke Pichhe Lago Tum Bhi Baito Aar Dousro Ko Bhi Bithao Jab Sewa Huni Hai Karni Hai Baap Bata Dega Aar Baap Kud Kar Lega Tum Fikar Mat Karo Baut Gai Thoڑi Rahi Antaki Bhi Antaki Ghađi Aai Bas Baapko Yad Karo Preshna Hai Is Purshottam Sangam Yuga Sangam Yuga Ki Vishish Taya Kauan Kauan Si Hai Uttar Hai यह Sangam Yuga 4. इस समय इस समय तुम्हें ग्यान सागर बाप द्वारा सुरिष्टी के आदी मद्य अंत का पूरा ग्यान मिलता है नई दुनिया के लिए नया ग्यान बाप देते हैं 5. तुम सावरे से गोरा बनते हूं बाबा कहते हैं विशेष्टाय कौन सी है संगम यूग की इस संगम यूग में ही यह जो संगम यूग है कल्यानकारी यूग है इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है लेकिन मेले में भी कौन जाएगा मिलन की टिकट किसके पास है कौन परमात्मा से मिल सकता है जो अपने स्वरूप में है आत्मिक स्वरूप में वही परमात्मा से मिल सकता है जो अपने स्वरूप में नहीं है उसके पास टिकट नहीं है मिलने की परमात्मा से आत्मा ही मिल सकती है mella to lega è ma tu mi chiedi mellè in parmaatma che passi o o o o tu mi chèk per tu mi chèk per tu mi chèk per questa è la questa è la questa è la questa è la che si è la si è la mia ma il suo figlio, allora senti con lui. Conso il suo figlio e il suo figlio. Conso il suo figlio. Il suo figlio non è riuscito a perdere. E oggi è il suo figlio. Come si è il suo figlio, nessuno non lo conosce. Alla dunia dice che mi padre e poi tu dirà che non ci può andare Adi nell'arte come Brahma sonati in sakaare e si bello si bella in niracare non ciò non capire che i nostri padre sito che il padre parmaatma sito Great 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 Grandfather Bietta Abhi photo Lagate Jabb Tha Tabb Mille Né Sama Che 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 questo senso si tu pari di aca armi e ci pari di rio e rio 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 e aca di rio 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 e non è non è e poi che è il primo che si pari che è il primo di rio 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 ma tre non è l'accio ma non è non ci sono quale soul consciousness quale si è grid è ma wa Dèa e Dèa Dèa me giù fassé Voi non arriva Succhi che Bate Bale Voi vahasarir Voi ciòdare Arzani Pari Dèa non arriva Atma abimani E'a bietta Dèa abimani Dèa abimani Dèa 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 Sansariyokah Yaha koji kama Nahi hai Jinnye Sansari Karna hai Mubarak Ho Unko Unka Sansari Sansari Me Rhe Yog Karay Baap Ko Yad Karay Yaha Na Aya Jinnye Baap Ke Farman Par Chalna Hai Shri Mat Par Chalna Hai Jinnye Baap Ki Yad Me Baitna Jinnye Koi Sewa Karne Ki Chahana Hai Yaha Na Hai Samajh K Bacchya Samajh Bacchya Samajh Kar Chaleng Sì, la sua vita, la sua vita. la sua parte perché è il loro il loro perché si è non non diciamo che abbiamo brahman è ma non posso dire che tu è brahman brahman è quello che è il brahman 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 non 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 si può dire. Il suo nome è il suo nome, il suo nome è il suo nome. Agar tu ambe in Hindus, tu non hai vim futuro, tu vai a sempre di quella dell' Mississippi. Baba líbera dice che, Que ti pate quais, or versersi per tutti i sch遇都. Ażi e tu vas anche in witch, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 loge tib milè gà attimik siti me ho unge to adhi maddyanthaka gian milè gà vornà haanji haanji nàji nàji vava kertè kertè ea se uccidè vava kertè na soda otter ho jai gà nèi dunia ke liè naya gian bap dietè naya gian dharan karo tum saavre se gora bantet ho 5 number gore bane ho ya abhi bhi saavre ho sumaj ki baat hai joh vikaro ke pichhe bhaag rai ho sab saavre hai kale hai jinn ki buddhi baap ke pichhe bhaag rai voh gore hai joh sansar ke pichhe bhaag rai voh kale hai voh joh bachche sanyias ke pichhe sanyias manabap sanyias ke pichhe bhaag rai voh gore hai tum chek karo tum korn ho giet hai is paap ki dunia se abhi dunia hi paap ki hai kitna mani ya haan rakhoga om shanti mithi 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 bachche bachche nne gīt suna aur bachche ki buddhi me yaha baitha hua hai ki barobar kaliyug paap ki dunia hai is same sab paap hi karatay rahetay hai baap ákar tum bachche ko kalp kalp gati sadgati dhe te hai jab patit dunia ko paavan banana hota hai tab patit paavan baap átay hai akar bachche ko aap saman banatay hai jab jab tum body consciousness me ho tum paap hi kar rahe ho dhyan me rakhna bhal sewa kar rhea lékin paap hi kar rhea kya kya tum body consciousness me ho jab jab tum soul consciousness me ho tum kuch bhi kar rhea ho puny ho ga kya kya kuch bhi ho nai saktta simple si paap 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Il nostro corso, il nostro corso e il nostro corso, il nostro corso, il nostro corso e il nostro corso, il nostro corso e il nostro corso, il nostro corso, il nostro corso e il nostro corso, 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 No, no, no. Aatma abhimani bhava Io samoshne ki bati hai Aatma che ti hai Hum satiug me thai Tò mahan aatma thai Poi kaliyug me Mahan paap aatma hai Sabse mahan te mahan Mahan aatma hai E'k parmaatma Jò sadaiwa pavitra hai Yaha to Manushya sadaiwa pavitra Rehate nai Sadaiwa pavitra to Sukhadhama me rehte hai Tretta me bhi Kuch kala kam ho ti jati hai Abhi hamari Chardti kala hai Hum svarg ke malik Bantte hai Phir tretta me aayenge To dho kala Kam ho jayenge Phir dvapar me Panc vikaro ka Grhan lagane se Kale ho tete jate hai Abhi Abhi Bap kehtete hai In panc vikaro ka Dhan do To grhan utar jaye Phir tum Satyugi Sampoorna Devata Ban jayenge Pahle Pahle Deha avimana Chodho Kam Vikaro ka Dhan Do Annt me aakar Yeha hai hai Dukh ki Duniya Satyug Hi hai Sukhadhám To Ko Padhatte hai hai Baap ke nazdik Samajh ki baat hai Hadha Had ka vrsa Milti hai hai Alpakal ka Sukh Kaliyug Me hai Kaag Vishta Samaana Sukh Isi liye Sanyasi Gharbara Chhod Dete hai Voha Guruastha Dharma Ko Nahi Maantate hai Guruastha Dharma Satyug Me Hai Na Tum Jantate Ho Is Padhai Se Ham Vishnupuri Me Jantate Hai Us Kae Liyue Parampita Parmátma Ham Ko Padha Rhe Hai Bhakto Ko Pata Hi Nahi Hai Khi Bhagawan Korn Hai Unka Kertavya Korn Sa Hai Kaisa Voha Patit Se Pavan Binate Hai Abhi Tum Pavan Ban Rhe Ho Duniya Us Patit Pavan Bap Ko Yad Kar Rhe Hai Abhi Tum Sangam Yuga Par Khađ Baki Sab Kaliyug Me Hai Voha Sama Jute Hai Khi Kaliyug To Ajun Baccha Hai Tum Jantate Ho Khi Kaliyug Kha Ab Vinash Ho Ne Par Hai Ab Tum Satiyug Me Jana Hai Bap Ne Tum Smriti Dilai Hai Me Kalp Kalp Tum Ko Vrsa Deta Ho Tau Vrsa Pura Lena Chahiyye Na Tau Bap Ais Tho Đe Hi Keh Tate Hai Khi Yaha Bait Jau Bhal Ghar Ghruhas Tame Rahu Tayyariya Khaakal Khaal 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 Tak Deya 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 Kertee Rahu Ghe Samaj Khi Baat Hai Atma Abhimani Bano Baap Ki Yad Me Bait Ho Baba Kertai Sinsaar Se Chhūtou Samaj Aya Hai Samaj Khaal 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 Aya Atma Abhimani Vano Acha Mithe Mithe Sikilade Bacchho Prati Mat Pita Baap Dada Ka Yad Piyar Or Good Morning Ruhani Baap Ki Ruhani Bacchho Kho Namaste Ruhani Bacchho Khi Ruhani Maat Pita Baap Dada Kho Padam Guna Padam Khi Pidhi Padam 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 Guna Yad Piyar Kuru Madhi Or Namaste 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 Acha Mokshan Dharna Khe Liyue Mukhya Sare Hain Ek Nambar Swadarshan Chakra Firate Pura Pura Nasht Moha Benna Maut Sir Par Is Liyue Sab Se Mamat Vah Nikal Dena Hai Dho Nambar Baap Se Varsha Lene Ke Liyue Pura Shrimat Par Chal Na Hai Atma Abhimani Ben Saput Baccha Ben Na Hai Vardan Hai Man Or Buddhi Kho Sada Sewa Me Bizi Rakhne Wa Nirvigna Sewa Dhar Bha Jow Jitna Sewa Ka Uman Utsah Rakhte Hai Utena Nirvigna Rakhte Hai Khiyongki Sewa Me Buddhi Bizi Rhe Tee Khali Rhe Rhe Ne Kisii Or Koi Ane Kau Chance Rakhne Uts Laksh Kho Practical Me Lane Ke Lai Be 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 Me Attention Zar Roo Chahi Aten Kabhi Tension Me Badli Na Ho Jaha Tension Ho Ta Hai Vaha Mushkil Ho Jata Hai Dhyan Dehna Bacche Slogan Hai Sewa Se Jho Dhuay Mil Tee Hai Tand Rust Rhe Ne Ka Saadhan Hai Acha O Shanti Sabhi Bacchou Ke Liyue Dholi Swikar Ho O Shanti Vaha Baba Baba Vaha Tram Baba Vahre Maya Atma Vahre Mera Bhakya Vahre Mera Ishwari Parivar Vahre Maya Swarach Dikari Atma Vah Acha O Shanti Mira Baba Vitha Baba Pya Baba Padam Guna Padam Guna Shukriya Baba Shukriya Baba Shukriya Baba Pya Vahre Vahre Shanti Vahre Shanti